E carissimi amici, carissime amiche, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buon giovedì. Sempre dalla macchina vi faccio le mie riflessioni su alcune dei nostri casi. Forse è sfuggito l'importanza ieri del video per la scomparsa della piccola Cata, bambina che è scomparsa da giugno a Firenze. C'è stata una vera e propria svolta che sugli organi di informazione è passata un po' così sottotono, se la vogliamo dire tutta, perché in effetti qual è la svolta? Che sono stati ufficialmente indagati due zii, le due zii di Cata, cioè il fratello di Miguel, cioè Marlon, e il fratello di Caterina, Abel. Cioè siamo nella piena famiglia, cioè qui non parliamo nemmeno del gruppo dei peruviani in generale. No, qua parliamo di famiglia. L'altro ieri furono tenuti sotto torchio per molto tempo, oppure in un interrogatorio pressante, Abel e Marlon, e l'imputazione è gravissima, è gravissima se ci pensate. Rappimento di minore a scopo di estruzione. Quindi tutto nasce, diciamo, da quell'alibi fai da te, dato da Abel nei primi momenti, che poi si è contraddetto lui stesso, perché una volta diceva devo, ho dovuto cambiare il pannolino a mio figlio, una volta diceva mi sono addormentato vicino a lui, ma tutto stranamente in coincidenza con le ore 15 e 30 circa. Quindi una cosa molto strana. Mentre anche di Marlon c'è una testimonianza che lo colloca all'interno della struttura e dice che praticamente si spostava anche con un fare furtivo, diciamolo così, fra il cortile, la sua stanza e quella dove c'è la cata. Quindi questi movimenti sospetti hanno fatto in modo da convincere gli inquirenti che loro sapessero qualcosa. Dobbiamo partire dal presupposto, amiche mie, che quello era un vero e proprio fortino. Quello era non una terra di nessuno, ma una terra divisa, illegittimamente ovviamente, fra peruviani e una parte anche con i rumeni, che gestivano tutto, gestivano addirittura questo racket degli affitti, cioè affittavano le stanze a chi volevano loro, con la violenza. Quindi a un certo punto nessuno poteva mai entrare in questo bunker, un vero e proprio bunker, e quindi pensate che un estraneo a questo loro gruppo potesse venire da fuori, prendere addirittura la bambina e uscire con la stessa dall'unica uscita senza il controllo, diciamo, delle telecamere. Quindi si è partito da questo presupposto, cioè che solo chi conosceva esattamente sia la bambina, sia la struttura, poteva entrare. E anche perché la bambina, Cata è una bambina abbastanza grandicella, sveglia, certamente non avrebbe mai seguito, diciamo, una persona che non fosse di sua perfetta conoscenza. Quindi è inutile, quando noi abbiamo sempre detto, i genitori davanti alle telecamere a dire che gli inquirenti ci devono dare le risposte, gli inquirenti non hanno seguito quello che noi abbiamo detto, non hanno seguito le nostre indicazioni, gli inquirenti non sono andati a vedere nei palazzi di fronte, gli inquirenti non hanno fatto questo o quell'altro, pure la gente non ci è solidale. è un momento. La gente non è solidale, proprio perché ha capito che qualcosa non andava. Ora, per carità, con tutte le precauzioni del caso, però le indagini sono indirizzate in questo senso qua. Ci sarebbe pure una terza persona, diciamo, che è stato interrogato per molto tempo, un certo Carlos Palomino, un certo Carlos Palomino, che praticamente, però lui, come riferisce il suo avvocato, dice che in quel momento, però lui era impegnato in una partita di calcetto e che quindi non sarebbe stato presente. Ora, dobbiamo vedere, vedete queste alchimie all'interno di questi gruppi, sono molto labili, perché è anche molto complicata, se la vogliamo dire tutta. Perché? Perché in effetti sono molto solidali fra di loro, è veramente un'omertà totale, chiusa. Quindi, certamente un sequestro, un rapimento, diciamo, a scopo di estorsione, si stenda anche a crederlo, perché si dovrebbe presupposte che proprio questi parenti stretti della bambina, cioè il fratello del papà e della mamma, abbiano fatto in modo di prendere la bambina e consegnarla a qualcuno a fine di che cosa? Di estorsione, cioè per avere dei soldi, ma a parte che si poteva pensare pure all'eco-mediatica, poi che sarebbe accaduta, ma quali soldi potevano mai poter dare, di quale entità potevano mai poter dare? O c'è qualche altro segreto che noi non conosciamo, legato a traffici illeciti, si era parlato più di una vendetta, si era parlato di quest'altro peruviano implicato in traffico di cocaina, poi si era parlato di scambio di bambine, qua sembra invece che lo scambio non ci sia stato, perché se parliamo di un coinvolgimento di zio Abel e zio Marlon, e beh, chi meglio di loro conosceva la bambina. Quindi, è qualcosa di raccapricciante, questo caso sta prendendo delle pieghe veramente preoccupanti, quindi, un caso fatto di disvalori unici, che sono veramente, come dire, sorpreso penso è interessato a vedere gli sviluppi, a vedere gli sviluppi se effettivamente emergerà qualcosa di concreto, perché poi qualcosa di concreto deve pure emergere nella nebbia di questa omestà che veramente è totale e globale. E potete sapere anche, chissà, magari i commenti della mamma di Cata, che sapete, recentemente è stata implicata pure in quest'altro fatto di sangue, oserei dire, all'interno della discoteca dove sembra che abbia accoltellato, ma certamente qualcosa è successo all'altra ragazza peruviana che abbiamo visto sfregiata in viso con parecchi punti di sutura, ma voglio dire, non è che si tratta di un semplice banale litigio, una banale discussione così tanto per, quindi veramente qualcosa bolle nell'aria, quindi potete sapere proprio cosa ne pensano adesso loro che sono attenzionati in questo modo così preoccupante, ma quello che preoccupa di più, direte voi, è la sorte della bambina, certamente io non sono ottimista in questo caso qui, perché la bambina nessuno sa niente, cosa volete che vi dica, quale pensiero benevolo ci può essere in questo caso qua, spero di sbagliarmi, quindi in attesa di ulteriori notizie, di ulteriori novità, io vi saluto, vi abbraccio, vi auguro una buona giornata, grazie sempre del vostro affetto, condividete il video con tutti i vostri amici e come dico sempre un abbraccio a tutti quanti voi.